Buonasera, buonasera, ben trovati. Tra poco il telegiornale che si apre oggi con uno scontro durissimo, diplomatico, che è esploso nelle ultime ore. Non c'entra per una volta né il dittatore nordcoreano, Kim Jong-un, né il presidente russo, Putin, né la Gran Bretagna o Trump. È uno scontro che si è aperto tra il nostro paese, l'Italia e la Francia. I fatti sono abbastanza semplici e probabilmente li avrete saputi, li avrete letti, ma sono andati a toccare, l'episodio è andato a toccare uno dei nervi scoperti, uno degli elementi più delicati per uno Stato, ovvero la sovranità nazionale. Cosa è accaduto? Che un gruppo di gendarmi francesi ha fatto irruzione, è entrato, armato, in uno dei centri di accoglienza di Bardonecchia, dove lavorava un ONG, lavora un ONG, Rainbow for Migrants for Africa, che si occupa appunto dei migranti che cercano di superare il confine per recarsi in Francia. Sono entrati armati e hanno costretto, di fatto con modi, a quanto hanno raccontato naturalmente i rappresentanti di questa ONG, in questo centro sanitario hanno costretto uno dei migranti a sottoporsi a un test, perché è sospettato di essere uno spacciatore di stupefacenti. Ora naturalmente questa intromissione per le modalità con cui è avvenuta ha fatto subito scattare una reazione, una reazione che via via con il passare delle ore è stata sempre più forte, perché sono state chieste spiegazioni alla Francia, che si è difesa, invocando un accordo che esiste effettivamente tra Italia e Francia e che permette un controllo anche armato nella zona di confine tra i due paesi. Quello che però è mancato in questa vicenda è stato l'avvertimento, cioè non sono state avvisate le forze di polizia italiana di questo ingresso, di questa intromissione all'interno di questo centro. E vi dicevo che la situazione è via via peggiorata, perché proprio poco fa, vi leggo quello che è arrivato poco fa in agenzia, cioè che il Viminale sta valutando l'opportunità di sospendere in linea generale le incursioni all'interno di tutto il territorio italiano da parte del personale delle forze di polizia dei doganieri francesi. Dunque una crisi diplomatica molto forte, è stato convocato l'ambasciatore francese alla Farnesina, che si riverbera anche nel mondo politico, perché per una volta tutte le forze politiche si sono trovate d'accordo sulla critica alla Francia, con sfumature diverse, sentirete, e si riverbera anche in quello che è invece il dibattito all'interno delle forze politiche in vista delle prossime consultazioni che cominceranno la prossima settimana, il cui punto cruciale è un accordo possibile tra il Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini. Sentiremo che qualcosa si sta muovendo sotterraneamente a livello carsico, anche se per quanto riguarda il fatidico incontro tra i due leader Salvini e Di Maio ancora non c'è una data precisa e non dovrebbe essere a brevissimo secondo quanto risulta alle nostre fonti. Torneremo poi sulla questione di Gaza, perché il segretario generale dell'ONU Gutierrez ha chiesto un'indagine indipendente per capire cosa sia successo dopo i 16 morti di ieri durante la manifestazione sulla striscia di Gaza, ma oggi, vedrete, ci sono stati nuovi, oltre ai funerali delle vittime, nuove manifestazioni violente anche nella zona, sempre nella zona della striscia. E poi torneremo su un argomento che ci sta particolarmente a cuore, che è quello della parità di genere, perché ancora una volta un ennesimo studio dimostra che è ben lontana dall'essere attuata alla parità tra uomo e donna per quanto riguarda non soltanto i posti e le posizioni apicali nelle varie aziende, ma anche per quanto riguarda la retribuzione e gli stipendi. Sentirete perché. Poi naturalmente non potremo non occuparci della stazione spaziale cinese Tiangon uno che sta procedendo verso la terra, però in maniera più rallentata vi faremo vedere una mappa per capire come e quando cadranno possibilmente, probabilmente, alcuni detriti di questa stazione. La cosa riguarda anche il nostro paese. Vi aspetto tra poco per i titoli. Tensione diplomatica fra Roma e Parigi dopo l'irruzione di cinque gendarmi francesi armati in un centro di accoglienza per migranti di una ONG alla stazione ferroviaria di Bardonecchia. Obiettivo del blitz è effettuare il test antidroga su un giovane nigeriano. L'ambasciatore francese è convocato alla farnesina che definisce la vicenda un atto grave e la condotta degli agenti inaccettabile. Il governo Macron difende lo sconfinamento dei suoi agenti. L'intervento si è svolto nel rispetto degli accordi, dice, ma i locali della stazione di Bardonecchia non sono più accessibili agli agenti francesi. Forti le reazioni politiche, durissimo Matteo Salvini che chiede l'espulsione dei diplomatici di Parigi dall'Italia, necessario al più presto chiarire con la Francia, ha detto il leader dei Cinque Stelle di Maio. In vista delle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo proseguono i contatti fra i Cinque Stelle e la Lega. L'incontro fra Di Maio e Salvini probabilmente slitterà dopo il primo giro. Nel PD intanto si discute sulla posizione del partito dopo il voto. Contro la linea dell'isolamento cresce la fronda, la fronda di chi vorrebbe avviare un dialogo invece con i Cinque Stelle. E resta altissima la tensione al confine fra Israele e Striscia di Gaza. Nuovi scontri fra militari israeliani e manifestanti palestinesi nel giorno dei funerali delle 16 vittime dei violenti scontri avvenuti ieri alla marcia organizzata da Hamas per ricordare l'anniversario dell'esproprio dei territori palestinesi. Il segretario generale delle Nazioni Unite Gutierrez ha chiesto un'indagine indipendente per accertare la verità su quanto accaduto ieri. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Luigi De Filippo, attore, regista, commediografo, aveva 87 anni, figlio di Peppino, De Filippo, nipote di Edoardo, dunque di Titina, aveva calcato le scene fin da giovanissimo, prima accanto al padre, poi guadagnando dai primi anni 80 il successo di critica e pubblico con una sua compagnia privata. Era considerato ed era l'ultimo erede di una dinastia che ha reso davvero grande il teatro italiano. Buonasera, ben trovati. Allora, da alcuni mesi la città di Bardonecchia si trova al centro del passaggio dei migranti, siamo nella Val di Susa, al centro del passaggio dei migranti che cercano di spostarsi dall'Italia alla Francia. In questa zona sono diversi centri di accoglienza che offrono rifugio, assistenza sanitaria e non ai migranti. In uno di questi centri è accaduto quello che vi raccontavo poco fa, ovvero l'ingresso di un gruppo di gendarmi francesi armati al seguito di un migrante che era sospettato di essere uno spacciatore di stupefacenti. Questo ingresso è avvenuto, a quanto raccontano e quanto se ne sa, fino a questo momento senza avvertire le autorità di polizia locali, andando dunque contro quello che dovrebbe essere il rapporto tra due paesi confinanti. Intanto vediamo che cosa è successo e poi ci torniamo. Una nuova situazione d'emergenza al confine tra Italia e Francia mette ancora una volta sotto accusa i respingimenti dei migranti da parte della gendarmeria francese. Diventa un caso diplomatico il blitz della polizia di frontiera francese nel piccolo centro d'accoglienza allestito all'interno della stazione di Bardonecchia sotto gli occhi dei medici della Onlus Rainbow for Africa che assistono i profughi. I volontari dell'associazione hanno raccontato che ieri intorno alle 20 cinque agenti francesi con le pistole nella fondina piombano nel piccolo hub accompagnando un nigeriano di 20 anni che viaggiava con un biglietto regolare del treno da Parigi a Napoli, diretto dunque nel nostro paese e non viceversa. Gli agenti sospettano sia uno spacciatore, ordinano ai medici di fornire gli strumenti per un test antidroga delle urine. Uno dei volontari ricorda loro che non sono autorizzati a farlo, gli intimano di stare zitto, come racconta questa volontaria che non vuole essere riconosciuta. L'hanno condotto in bagno dove gli hanno imposto di fare questo test delle urine che è risultato negativo, quindi poi l'hanno rilasciato gettando a terra i suoi averi, telefonino, carta d'identità e biglietto regolare del treno. Il questore di Torino giudica gravissimo quanto accaduto, indignato anche il sindaco di Bardonecchia che, chiamato dai volontari dell'ONG, ha a sua volta avvertito la polizia italiana. I poliziotti francesi che controllano treni e strade al confine anche oggi sono tornati sui binari. Spiegano che l'accesso al locale della stazione di Bardonecchia è sempre stato consentito da un vecchio accordo che risale alla fine degli anni Sessanta con le ferrovie. Sul presunto sconfinamento, la farnesina, irritata nel pomeriggio, chiede spiegazioni alle autorità francesi. In un comunicato spiega che, non avendo ricevuto alcuna giustificazione per il grave atto considerato del tutto al di fuori della cornice della collaborazione tra stati frontalieri, si è deciso di convocare l'ambasciatore di Francia in Italia, al quale viene rappresentata la ferma protesta del governo italiano per la condotta degli agenti doganali francesi ritenuta inaccettabile, specificando che le dogane francesi sanno bene che i locali della stazione di Bardonecchia non sono più accessibili agli agenti perché occupati da una ONG. Parigi, con una nota del ministro dei conti pubblici Gérald Armanen, dice che un'eventuale irruzione dei doganieri francesi sul territorio italiano è legittima in base a un accordo del 90 tra i due paesi. Si chiama diritto di inseguimento, un principio del diritto internazionale che prevede la possibilità da parte della Polizia di uno Stato di inseguire il presunto responsabile di un reato anche nel territorio dello Stato confinante per impedirgli di proseguire nel crimine. Concetto ribadito nel Trattato di Schengen, titolo terzo articolo 40, dove viene affrontata proprio la normativa relativa alle zone di frontiera. È la norma a cui si appiglia oggi la Francia per giustificare lo sconfinamento avvenuto ieri nella cittadina di confine, principio ribadito anche nell'accordo bilaterale firmato a Chambery nel 97, questioni sul filo del diritto, ma in ogni caso in tutti questi accordi è prevista una componente che stavolta pare sia mancata, la comunicazione tra polizie, l'informazione al paese amico. Insomma, gli agenti francesi dovevano apertire le autorità italiane, la nostra polizia, il sindaco di Bardonecchia o quant'altri dell'azione che andavano a fare in territorio italiano. Dunque saremmo in presenza di una violazione. È un comportamento inappropriato, nel senso che dovevano essere informati. Per compiere atti di coercizione sul territorio italiano ci sono soltanto due vie. I francesi possono chiedere l'autorizzazione alle autorità italiane e se l'autorizzazione è accordata compiere questi atti, oppure possono chiedere alle autorità italiane di compiere loro questi atti. La Farnesina in serata censura come inaccettabile la condotta della gendarmeria francese e parla di rischi futuri per la collaborazione frontaliera. In una nota durissima il Viminale bolla la risposta di Parigi come insoddisfacente e inesatta e valuta l'opportunità di sospendere le incursioni all'interno del territorio italiano da parte delle forze di polizia e dei docanieri francesi. C'è poi la questione del luogo dove è avvenuta l'irruzione. I locali della stazione ferroviaria in un tempo accessibili agli agenti francesi non lo sono più, precisa la Farnesina, essendo adesso occupati da un'organizzazione non governativa. A Bardonecchia la nuova impervia via dei migranti il fianco sud dell'Europa, frontiera già calda col braccio di ferro quotidiano tra gendarmeria d'Oltralpe e la nostra polizia. La temperatura si alza. Nei giorni scorsi la notizia della morte della donna nigeriana che incinta a febbraio era stata respinta dalla polizia francese ieri l'irruzione armata nei locali della stazione e si alzano anche i toni della politica con il leader della Lega Salvini che chiede l'espulsione dei diplomatici francesi dall'Italia e il 5 Stelle di Maio che twitta bene ha fatto la Farnesina a convocare l'ambasciatore francese quanto successo a Bardonecchia deve essere chiarito in ogni aspetto. Perché è del tutto evidente che quello che è accaduto ha avuto una prima conseguenza come sempre accade di fronte a un attacco alla sovranità nazionale, di fronte a un nemico comune, le forze politiche si compattano. Vi dicevo che sono più o meno, anche se con sfumature diverse, lo avete sentito anche nel servizio, sono più o meno dello stesso tenore le reazioni politiche del centro-destra, del centro-sinistra, del Movimento 5 Stelle. Però c'è un però da sottolineare perché siamo in una situazione particolare in questo momento. Veniamo da elezioni in cui i partiti principali, i partiti vincitori delle ultime consultazioni sono partiti che hanno fatto del sovranismo, tra virgolette, così chiamatelo come volete, dell'importanza della nazione e del nazionalismo italiano, un cavallo di battaglia della campagna elettorale. Non è un caso che appunto Salvini abbia ripreso la questione sottolineando il fatto che bisogna addirittura espellere i diplomatici francesi, non i russi, riprendendo la polemica seguita alla questione del caso Skripal. Dunque è un momento in cui anche i rapporti con l'Europa sono particolarmente delicati. Siamo, si è detto nei giorni, nelle settimane scorse, sorvegliati speciali proprio per il risultato elettorale. Sorvegliati speciali proprio in particolare dalla Francia che non ha mai nascosto il timore che arrivasse in Italia un governo che potesse in qualche modo mettere in discussione le relazioni tra i diversi paesi dell'Unione. Dunque questo scontro con la Francia e con la convivenza, con le regole che dettano la convivenza tra i diversi paesi europei oggi ha naturalmente tutto un altro sapore. La summa di tutto questo l'ha un po' sintetizzata Enrico Letta in un tweet dicendo che in realtà non ci si deve poi stupire di fronte ai risultati elettorali perché questo che è accaduto oggi da parte della Francia è stato l'ennesimo errore sul tema dei migranti, dopo quello di aver lasciato sola l'Italia appunto per combattere la sua battaglia con i migranti. Su questo tema, ma non solo, si riflette e impatta anche nei rapporti tra Lega e 5 Stelle che stanno invece in trattativa appunto per una possibile alleanza di governo. I contatti telefonici sono continui perché nessuno dei vincitori vuole avere la responsabilità di un mancato accordo. Per il faccia a faccia annunciato da entrambi, Salvini e Di Maio, invece bisognerà aspettare non solo la Pasquetta ma probabilmente l'ultimo minuto utile prima delle consultazioni al Quirinale o addirittura sussurravano voci autorevoli nel pomeriggio l'intervallo fra il primo e un secondo giro, già dato per scontato. Per tutti il primo round mercoledì e giovedì finirà infatti con la presa d'atto di impossibilità numeriche e incompatibilità politiche. Sarà un primo bagno di realtà è la linea di Mattarella. Un incontro Salvini-Di Maio dunque potrebbe avere una dimensione pubblica solo in presenza di un accordo trovato. Dovremmo avere qualcosa da dire e il senso. E questo qualcosa ancora non c'è. Così il frastuono del caso Bardonecchi aiuta a coprire una montante diffidenza reciproca e la consapevolezza che il negoziato centrodestra 5 Stelle è molto difficile. Non a caso proprio oggi sui quotidiani si sono lasciati intervistare due delle figure accreditate come possibili soluzioni rispetto allo stallo. Il giurista prodiano Giovanni Maria Flick, l'ex ministro degli esteri berlusconiano Franco Frattini, frequentatore della Link Campus University, bacino di reclutamento dei possibili ministri pentastellati. Manovre autocandidature rivelatrice di una situazione ferma ai blocchi di partenza. Con Salvini pronto a fare un passo indietro sulla premiership solo se lo dovesse fare anche Di Maio e a favore di un nome di centrodestra, è deciso a tenere ferma l'alleanza con Forza Italia, Berlusconi compreso e Di Maio, aperto al dialogo programmatico apparentemente con tutti, anche il PD, e ad un'alleanza con Salvini ma senza Berlusconi e soprattutto indisponibile a fare un passo indietro. Anche perché, dicevano in queste ore esponenti di peso del movimento, è Di Maio la garanzia di unità, l'unico in grado di tenere insieme tutti i pezzi e le pulsioni. Un ragionamento che la Lega capisce bene ma che rende complicatissimo sbloccare i veti incrociati. E anche ammesso come estrema razza uno schema Di Maio Premier, ministeri più importanti alla Lega, Salvini avrebbe altri motivi di diffidenza. Di Maio potrebbe rompere accordi di programma, per esempio sul reddito di cittadinanza, proporlo nella costosissima versione originale e a quel punto saremmo costretti a far cadere il governo, restando con il cerino in mano, osservano in queste ore in Casa Lega. Di sicuro nessuno può permettersi di offrire vantaggi elettorali all'avversario. In questo quadro lo scenario di un ritorno alle urne, rapido, con il governo Gentiloni in carica per gli affari correnti, rimane l'arma esibita da Salvini e anche dei 5 Stelle che, non a caso, stanno pensando di rassicurare i loro eletti, spiegando loro che in caso di ritorno alle urne riproporrebbero esattamente le stesse liste, garantendo tutti, anche chi, come Di Maio, dovesse incappare nel limite dei due mandati. In questi giorni naturalmente ci si interroga anche su che cosa succede dall'altra parte, cioè all'interno del Partito Democratico. La linea continua a essere quella di portare avanti un'opposizione, non di Aventino, è stato sottolineato anche ancora ieri dal capogruppo del Senato Marcucci, ma un'opposizione di proposta. Però naturalmente la discussione all'interno del Partito Democratico sulla linea da tenere, soprattutto in vista delle consultazioni, continua. E questa discussione è un po' l'epifenomeno di uno scontro interno, delle due linee che continuano a convivere all'interno del Partito Democratico. Giocare di sponda e sperare che nasca al più presto un governo Salvini Di Maio, perché quello, ironizza qualcuno, sarebbe il modo migliore per resuscitare il PD. PD, che in questo momento scopre Deborah Serracchiani, si trova nella fase più difficile della sua storia. Il fronte renziano è sempre maggioritario e fermo nella scelta dell'opposizione, ma la fronda dialogante cresce di giorno in giorno. Lo si intuisce anche dalle reazioni dei renziani doc, tipo Michele Ansaldi, che definisce l'inciuccio trasversale con i 5 Stelle una umiliazione dell'elettorato. In realtà nessuno guarda davvero a un governo 5 Stelle PD, per il quale, peraltro, non ci sarebbero i numeri. Ciò a cui mira il correntone anti-Aventino è di uscire dall'immobilismo politico, anche perché, eventualmente, sarebbe difficile sottrarsi a una possibile richiesta di responsabilità da parte del Presidente Mattarella, che mercoledì 4 comincia le consultazioni. E ora, si chiede oggi la deputata Alessia Morani, qualche risposta potrà arrivare dall'Assemblea nazionale del 21 di aprile, ma a quel punto forse molti giochi saranno fatti, anche se sono in tanti nel PD, a puntare sui tempi lunghi della crisi, un primo giro di consultazioni, poi un secondo e magari anche un terzo. L'obiettivo è cambiare il passo e magari tirare fuori dal cilindro un'intesa limitata con i 5 Stelle, con un nome condiviso e indiscutibile, che potrebbe essere quello di un giurista oppure di un costituzionalista. Per quanto riguarda le notizie dall'estero, continua ad essere principale lo scontro che si è consumato ieri tra l'esercito israeliano e i manifestanti palestinesi sulla striscia di Gaza. Ancora oggi, nel giorno dei funerali delle vittime di ieri, ci sono state nuove manifestazioni, nuovi scontri, con un coinvolgimento anche a livello internazionale. Non ci fermeremo e se le violenze andranno avanti colpiremo ovunque sarà necessario, i 16 morti e i 1.400 feriti palestinesi degli scontri di ieri sul confine di Gaza non preoccupano l'esercito di Israele e il generale portavoce delle forze armate ebraiche lo ribadisce, puniremo i miliziani di Hamas che sono dietro le vere e proprie azioni terroristiche camuffate da manifestazioni. 30.000 residenti della striscia hanno manifestato per rivendicare il diritto dei discendenti palestinesi a tornare nelle terre espropriate a partire dal 1948 quando lo Stato di Israele vide la luce. La mobilitazione andrà avanti fino al 15 maggio, oggi lungo la frontiera militarizzata, sono riprese le proteste, mentre a Gaza migliaia partecipavano ai funerali delle vittime. La NP di Abu Mazen ha proclamato il lutto nazionale, è stata un'aggressione per uccidere persone inermi, ha dichiarato il presidente dell'autorità nazionale palestinese nei territori occupati, è sciopero generale, scontri sono scoppiati a Ebron e a Nablus, entrambe in Cisgiordania, la condanna più dura è arrivata dall'Egitto. Israele ha sparato contro civili disarmati, ha commentato il ministero degli esseri del Cairo, sfilavano in una marcia per commemorare la giornata della terra che ricorda l'uccisione di sei arabi in Israele durante una manifestazione contro l'esproprio di terre del 1976. Ai fatti di ieri il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha reagito chiedendo un'indagine indipendente e trasparente sugli scontri. Dal Consiglio di Sicurezza è partito un appello alla moderazione ad entrambe le parti, ma per il momento nessun'azione diretta è stata decisa. Riyadh Mansur, l'ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite, ha condannato la mancata presa di posizione del Consiglio su quello che ha definito un odioso massacro. La comunità internazionale non si lascia ingannare, ha commentato invece l'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Abbiamo represso un raduno terroristico ben organizzato. La richiesta di un'indagine indipendente è nata su iniziativa della Svezia, ma la mozione promossa ad alcuni stati per un richiamo dello Stato ebraico all'uso proporzionato della forza non è passata. Naturalmente ci si è chiesto in questi giorni, nelle ultime 24 ore, perché sia scoppiata con questa violenza lo scontro nella striscia di Gaza e l'opinione degli analisti è che in realtà questo nasconda uno scontro interno alla comunità palestinese molto forte, anche in vista delle concessioni che gli Stati Uniti, in un piano che per ora è segreto ma di cui si sanno alcune indiscrezioni, vorrebbe concedere in vista dello spostamento della capitale di Israele a Tel Aviv. Questo spostamento naturalmente è stato fatto e pensato proprio in vista di possibili concessioni palestinesi e questo sarebbe una prova di forza, cioè creare, aumentare lo scontro tra Israele e Palestina e palestinesi potrebbe essere appunto una tecnica, una strategia politica e diplomatica per cercare di ottenere di più da queste eventuali possibili concessioni in futuro. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo c'è un altro fronte che si è riaperto e quello che riguarda la stessa zona, il Medio Oriente, in particolare la Siria, perché c'è uno scontro molto forte tra Francia e Turchia ma anche una novità, una novità che arriva dagli Stati Uniti perché il Presidente Trump ha fatto un annuncio che non sarà privo di conseguenze. Presto, molto presto ne saremo fuori, lasceremo ad altri il compito di occuparsi della Siria. Abbiamo fatto quel che dovevamo col cosiddetto califfato, ora possiamo andare via, ripeto, molto presto. Due giorni fa in Ohio Donald Trump lo aveva detto chiaramente ma non tutti avevano colto il senso di quel presto che adesso appare più chiaro. Il Presidente ha tagliato 200 milioni di fondi stanziati per la Siria perché intende riportare a casa i Marines e chiudere la faccenda, subito. Del resto lo stanziamento era stato annunciato due mesi fa ad un vertice della coalizione anti-ISIS da Rex Tillerson che, come è noto, pochi giorni fa ha lasciato a Mike Pompeo la poltrona di segretario di Stato. C'erano troppe divergenze su molte questioni e Trump gli ha preferito un superfalco come Pompeo alla guida del Ministero degli Esteri. Ma mentre il Presidente americano parlava del disimpegno militare, Erdogan annunciava che il suo esercito non si sarebbe fermato, che avrebbe fatto piazza pulita dei curdi sia in Siria che in Iraq. Per il sultano sono tutti terroristi nonostante abbiano combattuto l'ISIS in prima linea addestrati e armati dall'Occidente, Italia compresa. Il momento di transizione della guerra gli appare perfetto per regolare i conti e allontanarli dai confini turchi. Due mesi fa ha lanciato l'operazione Ramoscello d'Ulivo contro Afrin, da dove i curdi sono stati cacciati e adesso Erdogan fa avanzare i suoi, aiutati da truppe arabosiriane, verso Tal Rifat, non lontano da dove assede la base dei Marines. Che i militari di due paesi membri della Nato si trovino a fronteggiarsi è difficile da immaginare. Probabilmente il Presidente turco, nonostante i proclami bellicosi, rallenterà l'avanzata, ma come se non bastasse in questi giorni è sceso in polemica anche col suo omologo francese. Macron ha infatti ricevuto una delegazione curda che al termine dell'incontro ha fatto intendere che la Francia avrebbe potuto mandare truppa in Siria. L'Eliseo ha smentito qualsiasi altro impegno militare che vada oltre quelli già in atto con la coalizione, ma l'accaduto ha fatto infuriare Erdogan. Se volete sedere al tavolo coi terroristi fate pure a tuo Nato, noi andremo avanti a combattere come abbiamo fatto ad Afrin, arriveremo fino in Iraq. Ancora notizia dall'estero, anzi ben oltre i confini della Terra, perché vi do un aggiornamento sulla stazione spaziale cinese Tiangon 1, che come sapete sta lentamente, più lentamente del previsto, precipitando, rotolando verso la Terra, secondo più lentamente rispetto a quanto prevedevano i modelli teorici degli astronomi. Vi faccio vedere una cartina perché hanno calcolato le zone in cui potrebbero cadere i detriti una volta rientrata nell'atmosfera, a partire da mezzanotte e trenta del 2 aprile. Sono quattro le finestre del territorio italiano che viene interessato. Intorno alle 4 e 25 potrebbero cadere, parliamo sempre di probabilità bassissime, quindi soltanto sono modelli teorici, dicevo dalle 4 e 25 potrebbero cadere dei detriti nella zona di Lampedusa, dalle 6 invece nella zona blu, che vedete quindi quella che riguarda Lazio, Abruzzo e Campania. Dalle 8 di mattina invece la fascia più alta, quella rosa, che riguarda Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. Poi dalle 9 invece il rivo di possibili detriti potrebbe interessare la zona della Sardegna, parte della Sicilia e parte della Calabria. Adesso parliamo di una cosa che con un vezzo quelli che amano l'inglese chiamano gender gap, cioè la parità di genere, che in realtà si dovrebbe tradurre semplicemente come giustizia, cioè la parità di trattamento tra uomini e donne sul posto di lavoro. Non solo esiste una legge nel nostro paese, una legge del 2006 che la prevede, ma esistono anche diversi provvedimenti nelle varie aziende. Eppure, guardate. Il divario di genere, ovvero quel macigno, sulla strada della piena realizzazione di un miraggio chiamato parità. Prendiamo le nostre istituzioni rappresentative. Quello appena eletto è il Parlamento più rosa della storia repubblicana, dato arricchito dalla successiva elezione della prima donna alla presidenza del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Le previsioni contenute nella legge elettorale, però, avrebbero dovuto portare oltre il 40% la rappresentanza femminile, sconfitta invece dalle pluricandidature e dalla strategia dei partiti nella composizione delle liste, in molti casi penalizzante per le donne. Gender gap è la definizione inglese di una disparità che purtroppo ha un radicamento quasi universale, ma che le donne italiane sperimentano sulla propria pelle con particolare durezza. Oggi l'ulteriore dimostrazione è l'analisi del servizio studi della Banca d'Italia che giunge a delle conclusioni significative. Gli uomini, infatti, hanno una ricchezza netta individuale superiore del 25% rispetto a quella delle donne, percentuale in calo, ma molto consistente. Basti pensare che in Francia nel 2010 la distanza era del 12%, distanza che qui da noi si riduce tra i giovani tende a crescere oltre i 40 anni e in particolare per le coppie di fatto sposate, nell'ambito delle quali raggiunge addirittura il 50%. Il più immediato termometro del divario resta però la retribuzione e in questo caso, stando ai dati Eurostat, l'Italia sarebbe uno dei paesi più all'avanguardia d'Europa, con una differenza di poco superiore al 5%. Il problema è che questa statistica non tiene conto del fatto che molte donne, in particolare quelle con un basso grado di istruzione e che dunque avrebbero probabilmente ridotto la media delle retribuzioni femminili. Nel mercato del lavoro non ci sono mai entrate, tanto che il tasso di occupazione femminile italiano in Europa è superiore solo a quello della Grecia. Se dalle lavoratrici passiamo alle pensionate, la realtà non migliora. Gli ultimi numeri dell'Inps, infatti, parlano di un 70,8% delle pensioni private erogate al 1 gennaio 2018, inferiore ai 1.000 euro, percentuale che sale all'86,6% se ci si riferisce solo alle donne. Nella cultura italiana c'è una sineddoco, c'è una figura retorica che è la parte per il tutto, che riguarda il teatro italiano, che può essere davvero rappresentata dalla famiglia De Filippo, cioè quando si dice De Filippo si dice davvero teatro non solo napoletano ma anche italiano. Bene, oggi purtroppo è scomparso l'ultimo della dinastia dei grandi attori e autori. Una caratteristica che si è manifestata sempre nel teatro di noi De Filippo, divertire ma far riflettere sulla vita dell'uomo. Usava il noi Luigi De Filippo per raccontare la forza e lo straordinario successo di una dinastia teatrale senza uguali. Luigi, ultimo di questa dinastia, figlio d'arte di Peppino, nipote di Edoardo e Titina De Filippo, tre geniali protagonisti di quel teatro, nato a Napoli fra gli anni 30 e 40, poi ben presto diventato patrimonio culturale di tutta Italia. Attore per necessità, autore per vocazione, così si definì un giorno Luigi De Filippo, quasi a voler dichiarare pubblicamente quella smania di scrivere, una passione autentica e prolifica pubblicando diversi libri e commedie. Attore sul grande schermo come in tv ebbe la sua consacrazione a teatro prima accanto al padre, poi da solo. Portò in scena per scelta non solo i grandi classici, su tutti misere e nobiltà, Natale in casa Cupiello, 40 manoli di mostra, ma anche la Napoli contemporanea con i suoi mille problemi fra disoccupazione e disagio giovanile. Lo fece mettendosi in proprio con una sua compagnia teatrale negli anni 80, senza mai dimenticare il legame profondo con la sua famiglia, tanto da intitolare il Teatro Parioli di Roma al padre quando nel 2011 ne divenne direttore artistico. Il teatro è musica, diceva, ricordando gli insegnamenti della zia Titina al pianoforte. I miei maestri, così Luigi amava definire Peppino e lo zio Eduardo, ricordando i loro dissapori ma anche le riappacificazioni pubbliche, ma soprattutto ricordando l'onere di una dinastia teatrale. Diciamo che chiamarsi De Filippo per me è stato sempre come la frusta del Fantino che sprona il puro sangue, ecco, è stato uno stimolo a dare sempre il meglio di me, io non potevo sbagliare in scena, in palcoscenico. Onori e oneri, dopo di noi 8 e mezzo, Lili Gruber questa sera ospita Cinzia Tani, Andrea Purgatori e Alberto Negri, ci fermiamo. Eccoci noi, lascio 8 e mezzo con Lili Gruber e vi auguro una notte di Pasqua serena e di rinascita, ci vediamo domani.